Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Facciamoci un po' cullare dall'eccellenza di questo paese perché ce n'è, ce n'è soprattutto quando si tratta di raccontare il dramma, la malinconia. Io dico sempre che l'italiano anche nel cinema sa raccontare quella solitudine di provincia, il paesello, quel racconto diciamo un po' anche populista però reale dell'emozione diciamo più interna che nasce un po' dall'infanzia. Ecco, l'italiano come te la racconta lui nessuno. E nel cinema che ci prendono in giro ovunque perché oggi come oggi nonostante abbiamo fatto la nostra storia, abbiamo fatto la storia. Poi comunque col tempo accadono tante cose, problemi di budget, attrici, attori cani e cagne, favoritismi, mazzette, ma ci sono degli aspetti da valorizzare. Ecco, adesso arriviamo un attimo a lui. Luigi Tenko, mi sono innamorato di te. Ecco, questa è una canzone che definirla d'amore per me è una banalità, è superficiale ed è soprattutto falso perché questa non è una canzone d'amore. Questa è una canzone di non amore. Questo è tutto ciò che prende le distanze dall'amore è questo brano. Cioè, una persona che dedica alla propria amata questa canzone è fuori di testa. Questo è l'amore visto dalla prospettiva di un suicida poi, no? Insomma, bella peso la situazione. Che poi chiaramente è cantata dolcemente, è un brano soave, è un brano immortale, sempre verde. Che però, appunto, racconta un disastro emotivo, un vuoto, una mancanza. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Potessi evitare, lo eviterei, quindi. Cioè, non avevo niente da fare. Ero nel baratro, nell'apatia, nel vuoto. Ed è lì che mi sono innamorato di te. Che può essere anche vista come una cosa bella, no? Quando proprio non avevo nulla che mi attaccasse, che mi coinvolgesse, è lì che mi sono innamorato di te. Ma nel momento in cui, poi andiamo avanti, e si continua con il giorno, volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. E allora capisci che questo amore è autoreferenziale. Viene da se stesso e viene rigettato nell'altra, nel prossimo, ma in verità per bisogno di se stesso. Abbiamo tutti bisogno d'amore. Ma questo racconto così consapevole a me spaventa. A me spaventa. Io lo capisco, lo capisco benissimo. Mi sento molto Luigi Tenco in questo momento nel leggere queste parole. E quanti possono dire lo stesso. Ma, ma... Leggere queste parole con questa consapevolezza, cantate con quel dolore, spiega tutto. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni. La notte parlare d'amore. Questa è proprio, non so, in relazione alla frase prima, della quartina prima. Avete presente, no? Essere a letto e avere quell'immagine della donna amata. E desiderarla, pensarla, farsi mille viaggi, rincontrarla. Ecco, è proprio quella modalità a tratti ossessiva che ha l'innamorato. Insomma, l'amore legittima tutto. Talvolta anche l'ossessione, se rimane su di sé, se non arriva poi a sfociare, ad esempio, in violenza. E poi invece il giorno volevo parlare dei miei sogni. Quindi il giorno, lavorare, scrivere, scrivere, scrivere è parlare dei sogni. Quindi lavorare, vivere la vita e la notte parlare d'amore. Quando il clima è giusto, la notte si intende proprio la notte in generale come mood, come momento di vita. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata. La notte ti vengo a cercare. Ecco, mi pento d'averti incontrata. E' amore questo? E' amore il mi pento d'averti incontrata? E questa è una conclusione degna di un brano di non amore. Un brano triste, un brano doloroso, molto doloroso. Un brano che fa male. Fa male a chi l'ascolta, fa male a chi lo canta. Ma è talmente ben fatto. C'è talmente tanta qualità. E poi c'è una melodia bellissima che tu sei lì che lo ascolti e ti lasci cullare, appunto, come ho detto in principio di questo podcast, dall'eccellenza. E tornando alla solita teoria che la musica è medicina, e allora cosa c'è di meglio che aiutarsi quando si prova quel dolore, quello della mancanza, quello della donna che ti lascia, quello della solitudine, nella fase più estrema, quello della chiusura forzata perché capisci che non è più aria, quello dell'accettare, del sentirsi perduti perché si vede il domani come una voragine oscura dove gettarsi, dove doversi gettare a forza, quindi voler restare a letto, non vivere, svegliarsi presto nonostante tutto e sentire quell'affanno, quel respiro che viene smorzato. Ecco, tutto questo, accompagnato da un brano così, sembra alleviarsi o perlomeno te lo fa vivere con consapevolezza, appunto, come questo brano che è una poesia consapevole di non amore, anzi di amore autoreferenziale che nasce dal bisogno di un vuoto incolmabile di un artista tanto sensibile troppo al punto da decidere di morire, e in che contesto? di morire al bando, di darsi impasto alla folla un'ultima volta, sparendo.